Ed Workup Rebels e-Speed, nuova generazione dello Ski Workup con sciancrature rimodernate adatto a professionisti o sciatori tecnici, con un raggio di 16,1 metri e 68 mm al centro nella lunghezza di 170 cm. Costruzione con sistema elettronico di riduzione delle vibrazioni IMC che si abbina alla struttura Workup con nucleo in legno ampliato con grafene alla piastra Race Plate Evo 14. Gli sci hanno un profilo Camber. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!